ciao ragazzi qui justice benvenuti in questo nuovo video il team united we stand finalmente farò anche io questo benedetto unboxing spero di sbustare i pachi o una bella sacurezza o una talp perché onestamente sono le mie carte preferite aliello di secret in questo box anche se tutte le siglette sono molto molto belle devo dire o che bello sono chiamata la saco questo è proprio un gran box mi zika pachi vi giuro che non le ho viste queste secret l'ho semplicemente tagliata la busta per guadagnare tempo o arcana molto molto figo l'art work tra l'altro abbiamo pubblicato un video che vi invito a vedere è una tech list che abbiamo condiviso sui social facebook e instagram molto molto spicy finora su quattro carte molto molto soddisfatto diciamo pachi e sacu sono davvero deliziose però come dicevo prima tanta tanta roba questo box andiamo a vedere il secondo pacchetto ovviamente abbiamo preso il 3 per anche se sono illegali tra virgo mi zika pachi top e vi dicevo anche se sono illegali in europa attualmente al 2 per di arcana e noi comunque le prendiamo per fare i video unboxing anche per collezione ci piace tanto questo gioco quindi lo facciamo valentieri ops mi sono spoilerato la saco bene andiamo che questa non mi piace tanto però ci sta talpa che bello ok quindi non male come sbustata secondo me è ovviamente ragazzi se il video vi è piaciuto mettete like condividetelo grazie per aver visto questo video alla prossima ciao raga